Sì, c'è qualcuno che già comincia a... Tutto nero qua, non mangiare bene, tutto nero dormire strada. Perché? Perché state tutto il giorno qua? Vai di Bergamo, vai di Bergamo, l'Italia è sporca. L'Italia è sporca? Sì, perché il documento non ce l'ha tutto, tutto non ce l'ha niente in Italia. E perché state tutto il giorno qua? Perché tu ce l'hai a campo, tu ce l'hai a campo, vai a scuola. Tu ce l'hai a campo, non vai a scuola, non vai a niente. Se vai al campo o profughi ti fanno andare a scuola? No! Adesso al campo ce l'hai a scuola, non ce l'hai niente, non ce l'hai. Non avete niente? Lavoro non ce l'hai, niente non ce l'hai. E cosa fate tutto il giorno? Tutto il giorno, io sarei qua perché non lo so, vai. E qua, ma lavorate, che cosa fate? Lavoro non ce l'hai, niente non ce l'hai. Il documento ce l'hai, tutto vai a Germania o a Suisse. L'Italia è sporca, tante persone, tanta mafia, tanto robato. Perché? E voi che fate tutto il giorno qua? Il giorno qua? Sì! I soldi ce l'hai, io fai a Germania, i soldi non ce l'hai, io salgo di qua a vendere. Cosa vendi? Io vendi l'erba. Vendi l'erba? Sì! Vendi l'erba. Io vendi l'erba, io vendi le canna. Vendi la canna? Vendi le canna. Sì! Perché i soldi non ce l'hai, lavoro non ce l'hai, mangiare non ce l'hai. E chi te la vende? Da dove la prendi l'erba? L'erba? L'italiano vende qua, prendi. La vendi agli italiani? Sì! Ma tu dove la prendi? Dove la prendi? Malpensa! Vai di Linate, vai di Bergamo. Tutto viene da là, da Bergamo. Da Bergamo? Vai all'aeroporto? L'Aeroporto, Linate, Bergamo, Malpensa. Cioè vanno agli aeroporti a prendere la droga? E quanti soldi fai al giorno? Giorno, soldi, soldi, non ho tanto. Quanti soldi al giorno? 50 giorni o 40 giorni. Sì! E poi con quei soldi che ci fai? Che ci fai? Perché qua è pericoloso, tanto robato, tanta mafia d'Italia. Sì, io tu mafia non sta. Ma tu dove dormi la notte? Io dormi qua, sempre, sempre qua. E vendi l'erba? Sì! E vendete tutti l'erba? Sì! Gabriele, rimani lì, vedi se riesci a farti raccontare ancora qualche cosa. Intanto vi presento i nostri...